Ragazzi siete proprio negati, proprio ammigliati, però oggi vi faccio vedere bene come si fa perché sembrerebbe che nessuno di voi abbia ben capito come infilarlo in maniera corretta. Sto parlando del riciclo della plastica, nel caso specifico oggi una bottiglia. Ok? Ecco la bottiglia. Se c'è l'etichetta di carta la strappiamo, non comprimiamo mai, non si fa. In orizzontale, voi sapete cosa voglio dire. Si apre, leggera pressione, tappo e la bottiglia è pronta per essere infilata nell'apposito contenitore per la plastica. Ragazzi non è importante quanto ce l'avete grande sta bottiglia, l'importante è saperla riciclare, ok? Siate uomini, riciclate la plastica.